La conduttrice televisiva 15 anni di fidanzamento e 4 di convivenza Io e Giulio ci sposiamo Lo faremo in chiesa e io avrò l'abito bianco con lo strascico. Eleonora Daniele dove si sposerà? Come riporta il settimanale Chi la cerimonia si svolgerà in una chiesa a Roma, mentre la location scelta è il lago di Bracciano, l'ex concorrente del grande fratello ha detto che lei e il suo compagno hanno batti beccato come cane e gatto sul posto da Scegliere Punto in passato, al Maurizio Costanzo Show, la donna ha anche ammesso di avere un carattere forte nei rapporti di coppia, tendo a menare gli uomini E non con dei cuscini. So essere abbastanza cattiva. Testimone d'eccezione del matrimonio sarà un uomo del tutto speciale, voglio Maurizio Costanzo come testimone, ha affermato la conduttrice televisiva, evidenziando la stima reciproca che gli lega .